Buongiorno a tutti, buon mercoledì e benvenuti nel canale di pensioni e aggiornamenti. In questo video ci occupiamo di particolari aumenti che riguardano 70 per cento di voi e che da oggi sono più ottenibili grazie a delle novità IMS. Vediamo insieme subito di cosa si tratta. Nel video che segue prima di visionare il video come sempre vi invito ad iscrivervi al canale e a schiacciare sulla campanella per rimanere sempre aggiornati ogni volta che sarà caricato un nuovo video sul canale. Vi invito inoltre a lasciare un mi piace all'interno del video per continuare a supportarci. Grazie. Come dicevamo poco fa in questo video parleremo soprattutto al 70 per cento di voi ossia a chi riceve una pensione bassa o minima sociale di reversibilità. Queste informazioni sono importantissime anche per gli invalidi. Illustreremo quindi sette aumenti che grazie a una nuova normativa IMSS sono più facili da ottenere. Discuteremo delle maggiorazioni delle pensioni riconosciute da IMSS solo su domanda. Un esempio è l'integrazione al trattamento minimo per chi è andato in pensione con il sistema retributivo misto e riceve un assegno inferiore al minimo vitale rispettando determinati limiti reddituali. La pensione minima del 2024 come sappiamo è di 598 euro con ulteriori maggiorazioni sociali per chi ha oltre 60 anni e si trova in una situazione di svantaggio economico. Queste maggiorazioni variano da 25, 82, 136 euro al mese a seconda dell'età ma i requisiti reddituali, attenzione, sono molto rigidi. Anche gli assegni assistenziali come l'assegno e la pensione sociale sono soggetti a maggiorazioni. Per gli invalidi sono previste maggiorazioni specifiche. Gli invalidi totali possono ottenere un incremento al milione di circa 735 euro nel 2024 mentre gli invalidi parziali possono ricevere circa 10,33 euro in più al mese a seconda del reddito. Inoltre esistono bonus aggiuntivi come il bonus tredicesima di 154 euro per i pensionati al minimo ma attenzione non per gli invalidi civili e il bonus 14esima di massimo 655 euro all'anno che potrebbe richiedere una ricostituzione reddituale. Infine l'assegno al nucleo familiare di vedovanza spetta agli invalidi civili totali titolari di una pensione di reversibilità. La buona notizia è che nel 2024 tutte queste domande sono più accessibili grazie al nuovo consulente digitale delle pensioni potenziato con l'ausilio dell'intelligenza artificiale. La procedura semplificata dell'Inps per la ricostituzione reddituale rende più facile verificare il diritto a tali maggiorazioni. Potete fare domande in autonomia o a un intermediario finanziario. Fateci sapere se è tutto chiaro e se avete domande qui sotto come sempre nei commenti del video. Grazie.